Amici di Sport Channel User TV, benvenuti dallo stadio comunale di San Michele di Serino, ventottesima giornata del torneo di promozione Girone C. Si affrontano i campioni della Virtus Avellino, promossa in eccellenza sabato scorso in quel di Savignano e Blitz Salgado Carmine Circhia. Ha regalato la promozione della massima serie regionale per la Virtus di Mr. Cricitello contro il Grotta di Mr. Gargiulo. Che a Savignano negli spogliatoi, nel nostro speciale, tir di prima a cercare Cuciniero, la palla è buona anche perché c'è bello lusso che sale. Prova il numero, la Cavaglio Cuciniero non ci riesce, poi vince un take il numero su Santese, poi prova il destro. Blocherino che ha battuto la Virtus 2 a 0 nell'ultimo match del giorno di andata, può a Savignano. Poi parlare di tir di Cuciniero, bellissima, può scuotersi Cuciniero, attacca la porta, supera Riccio, Carmine Cuciniero, converte col destro. C'è creativo sul secondo pallo, poi sul sinistro il tiro! Ora, emozione tra gara Carmine Cuciniero che è andato via Riccio, ha provato il sinistro in diagonale sul secondo pallo. La palla è terminata un paio di metri alla sinistra di Serretiello. Cuomo, Parrella, ancora Cuomo, perde palla, Goffo, Antoi, uno contro uno! Errore clamoroso di Antoi! Dauria, si impone per l'occia a Catalusso, l'occia Oliva, bravo Oliva a fermarlo in uscita con il petto. Parte Cuciniero, cross in acqua, tenendo lo stacco, la palla resta di Trifone! Mischio in aria, poi c'è Circhia, rovesciata bellissima verso Dello Lusso, si corre dal volo! Grande parata di Serretiello! Ranaudo Trifone Prova un tacco, lo sbaglia, Catalusso, la bocca sull'a destra! Il tiro e c'è il gol! Del Grotta Che passa in vantaggio con Catalusso al minuto 28! Cerca Ambrosino in aria, penta su Barsato, Ambrosino la potata resta lì, Ambrosino destro alto! Salvatino lo sta caricando, barriera a tre uomini da parte di Serretiello, Cuciniero può calciare, trentanovesimo, adesso se ne giunge un uomo che Cerchia, prova Cuciniero, c'è gol! E lo ha detto Salvatino, lo sta dedicando proprio a lui, Carmine Cuciniero al trentanovesimo e due! Si abbracciano, Salvatino lo ha detto, lo hai fatto prima di segnare, così è stato, uno a uno! Sbaglia lo stop, mette in difficoltà Riccio, bravo! Andare via Cuciniero, resta a terra Cuciniero! Antoi! Mi sono fatto male Cuciniero! Andato via Riccio! Mi sono rotto addirittura le sue parole C'è bisogno dell'ambulanza Si è girato il ginocchio a Cuciniero Anche Torsiello sta invitando a tutti a chiamare l'ambulanza perché Ci sono problemi per Cuciniero E' caduto male con il ginocchio Cuciniero Lo abbiamo visto tutti sotto la nostra postazione Bravo Riccio a andare via allo stesso La consultante è il mid cronometro E' così D'Auria manda tutti negli spogliatoi Uno a uno al termine della prima frazione Al comunale di San Michele di Serino Che la Virtus ha bisogno del suo condottiero Che ha siglato l'ottava rete in campionato Di petto Villanova va a spazzare Occio a Cataruzolo in mezzo a due Uno contro uno con Cuomo Oliva non esce Disturbato Cataruzolo la palla resta lì Sulla linea Occio Cataruzolo che la mette in rete Però c'è fallo in attacco Riccio quasi in aria verso Cataruzolo la palla resta lì Lamberti Tiro Il palo è gol Il gol del Grotta al novantesimo Con Lamberti Finisce qui Con qualche minuto di anticipo D'Auro ne ha dato solo tre Dopo tre di recupero Ha fischiato la fine D'Auria La Virtus quindi Esce sconfitta in casa Da C'è Vero Grazie a tutti.